interale interale questa mia vita l'ho dedicata a te oh 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 e la marotta league la marotta league la marotta league la marotta league fratelli nerazzurri amici di facebook e instagram buongiorno a tutti ragazzi un saluto a tutti iscritti al canale e buona domenica buona domenica bella soleggiata sta facendo temperature quasi primaverili e poi ti ti frega e ti raffredti venendo la tos come al mister direttamente quindi ragazzi quindi abbiamo un po di cose anche da vedere insomma è la marotta league perché quando c'è la marotta league c'è la marotta league c'è poco da fare e quindi andremo a snocciolare qualche cosa perché adesso poi vedremo cosa faranno gli altri stasera ormai ormai la sacra alleanza sta saltando perché questi vogliono il sorpasso una volta che ci sarà il sorpasso si creerà l'alleanza al contrario quindi i gobbi ti feranno per il minan e questa cosa è grandiosa come li stiamo riducendo detto questo detto questo è sempre più marotta league ragazzi intanto intanto giusto per mi fa specie no ho letto dei commenti ma anche qualcuno che che parla dopo dopo inter salernitana dice sì ma avete giocato con la salernitana ultima in classifica cioè è inutile che vi esaltate ho capito ma la salernitana se non ricordo male ha pareggiato col milan ma non mi ricordo chi è che va assegnato chi è che ha che ha pareggiato alla fine non me lo ricordo sinceramente perché e se non ricordo male questo me lo ricordo un po meglio perché l'abbiamo trattato un po come tratteremo oggi alcuni episodi la juve con la salernitana se non se non gli danno l'espulsione a chi era maggiore non mi ricordo col cazzo la vince la partita ma di che cazzo stiamo parlando quindi già questa roba qui sempre di sminuire invece di dire min che un primo tempo non ha fatto capire un cazzo secondo tempo bello con i cambi ha tenuto gli ha fatto anche un'altra pera un inter veramente strabordante a livello di energia a livello mentale e a livello di gioco quindi adesso alcuni addirittura sacchi parla del gioco perché anche l'europa è cambiato in zaghi sempre quella è l'inter quella che cagava il cazzo fino a un mese e mezzo fa è sempre quella caro a righe così come zacquaroni e altri che adesso hai capito ti portano su ti portano quindi questa è una cosa sminuire una vittoria che veramente c'è fatto anche mi faceva mi dispiaceva per li verani quando lo inquadravano sinceramente perché non ci stava capendo un cazzo che lui anche lui aveva baffato un po ha baffato un po come come questo signore insomma è adesso parliamo un po di questi di questi personaggi qua perché questo qui il 21 gennaio è e si gioca guardia e ladri ci aveva superato le battute e siano per malosi invece dall'altra parte vedevo noi è che si cercava di calmare le acque e nessuno che rispondeva testa bassa e pedalare come ha detto il toro ancora che non è stato fatto un cazzo testa bassa e pedalare e l'epilogo qual è l'epilogo è che neanche dopo un mese siamo a più 9 sopra accioghine allegri i per malosi sono a più 9 con una partita in meno ma io tengo il più 9 tengo quella si vedrà il 28 febbraio con l'atalanta perché veramente tosta tiriamo il più 9 che che già una cosa spettacolare quindi vedi che poi quando si diceva quando si diceva ragazzi c'è poco da fare questi troveranno sempre da rompere i coglioni l'unico modo per farli tacere è batterli e continuare a vincere continuare a non rispondere come stanno facendo loro noi poi noi tifosi rispondiamo e facciamo vedere parlo di loro tant'è che siamo siamo in questa condizione che a noi ci piace molto ci piace ora passiamo però a degli episodi al di là del fatto che inter salernitana inter salernitana ci sono due episodi dubbi che non ci hanno fatto vedere un cazzo c'è un fallo mezzo fallo di mano mai mai rivisto è un contatto sul ticus che non lo so mica ma secondo me quello clamoroso rigore sull'unfris che ride denzel perché l'ha preso il pestone cade in area ho capito che era già quattro era 3 a 0 la salernitana stava prendendo appallonate però se c'è un cazzo di rigore me lo devi dare e di questi ragazzi qui non ne ha parlato nessuno come sempre perché l'inter continua a vincere ma gli episodi a sfavore ci sono e sono lì se non te li fanno rivedere un po' come non fanno rivedere alcune cose questa cosa qui mi fa specie ma adesso andiamo a vedere ragazzi perché è la marotta league è sempre la marotta league l'inter è dopata secondo qualche scienziato zozzo nero che guida il taxi in giro per milano secondo questo personaggio l'inter è dopata se tu pensi sta cosa da anni ma perché non portate le prove delle minchiate che dite tu come quell'altro cintura nera di gel e di capelli vicilicchio che dice che ho letto solo il titolo marotta non fare lo spavaldo racconta di zang che è in carcere ma avete rotto i coglioni ma portate le prove di tutte ste minchiate che dite così come quelli che raccontano minchiate da anni su calciomercato portate le prove di quello che avete rotto il cazzo che sono buoni tutti così a fare un video a raccontare minchiate quindi quindi ci sono delle cose che non mi sconfinferano tipo tipo eccolo qua perché qui chi era quello del verona sogliano san sogliano come cazzo si chiama quello lì che aveva fatto il cinema contro di noi vi ricordate il cinema eppure qui come funziona che all'andata all'andata un braccio ancora più largo non è stato dato rigore a favore del verona qui dove la prende perché io la prima io ho visto solo il primo tempo io sono uscito fuori a cena la prima inquadratura sembrava ginocchio ma che cazzo la presa di ginocchio in realtà non la prende di mano perché poi c'è l'altra inquadratura e il rigore c'è il rigore per la juve c'è ma c'era anche quello per il verona quello si dice quindi perché non rompe il cazzo quello lì del verona è ridge forester dei poveri pure lui dopodiché andiamo in un altro episodio è il pugile il pugile continua il pugile continua a rompere il cazzo e a dare sganassone a tutti e ci hanno fatto due coglioni così con bastoni perché ieri c'è stata l'ennesima gomitata io quella l'ho vista in diretta ma ti hanno fatto vedere mezzo cazzo di replay invece lì bisogna andare a fondo perché lo colpisce bello secco secco lo colpisce andiamo a vedere vedi polemiche sul web perché non hanno fatto rivedere un cazzo ti fanno vedere solo quello che vogliono loro queste cose qui come ci avete frantumato le palle per due settimane con bastoni la gomitata che non era una gomitata era una strattonata invece questo cazzo che lo aspetta me lo secca senza palla al solito pugni sganassoni questo questo all'immunità è questo personaggio questo schifo d'uomo perché è uno schifo questo è uno schifo questo è l'anticalcio questo non godo come godo che abbiamo preso i tre punti con un suo cazzo di autogol ragazzi è veramente meglio di un rigore regalato al novantunesimo per come è stronzo questo qua però lui è impunito lui può fare tutto quel cazzo che vuole ma di che però è marotta league è sempre marotta league ragazzi quindi andassolo a fare in culo tutti quanti e vediamo di essere onesti di dire effettivamente sono abbastanza fortini questi nero azzurri ok tanto ci stanno aspettando al varco adesso sarà la cosa della champions che se dovessimo uscire ah no 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 gli obiettivi l'obiettivo dichiarato da tutti a parte noi tifosi ma tutti a inizio estate l'hanno detto questa cosa è la seconda stessa se poi andremo avanti in champions tanto di guadagnato il nostro cammino lì da vedere l'anno scorso inutile che iniziata a rompere i coglioni ncs perché lo so che brucia il peperone se dovessimo andare a dama maggio sulla seconda stella ma questo è questa è la realtà dei fatti quindi grande inter grande inter con la serenità ragazzi andate a vedere live reaction se non l'avete ancora vista e basta vediamo stasera cosa farà milan col monza e condivisione del video iscrizione al canale sempre forza inter attivate la campanella fate passaparola e mi raccomando e la marotta la marotta lì la marotta lì veffengu la sort no 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 Grazie a tutti.